Buongiorno, oggi parliamo del decreto interministeriale che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro che attuano misure di conciliazione tempi di vita e lavoro. A due anni di distanza dal Jobs Act è stato infatti firmato e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale che riconosce sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che prevedano nell'ambito dei contratti collettivi aziendali tali misure. L'agevolazione riguarderà esclusivamente i contratti aziendali sottoscritti nel periodo 1 gennaio 2017-31 agosto 2018. Vediamo nel dettaglio come funziona. Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che introducano misure di conciliazione innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto, ovvero prevedano l'estensione o integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali. La misura del beneficio è quantificata a cura dell'Inps e non potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell'anno precedente quello della presentazione della domanda. Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell'ambito del bienio 2017-2018. Le misure di conciliazione vanno individuate in un numero minimo di due tra area di intervento genitorialità, area di intervento flessibilità organizzativa, welfare aziendali, di cui almeno una deve rientrare nelle aree di intervento genitorialità o flessibilità organizzativa. Quali sono le condizioni richieste? Lo strumento con cui accedere a questi fondi è il contratto aziendale da sottoscrivere e depositare in via telematica entro il 31 agosto 2018 e che deve risultare applicabile a un numero di lavoratori non inferiore al 70% degli occupati nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Inoltre è necessario essere in possesso del DURC. Come si richiede? I datori di lavoro, anche per il tramite di intermediari abilitati, inoltrano in via telematica apposita domanda all'Inps, altresì con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. La domanda dovrà essere inviata all'Istituto entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017 e il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018. Le aziende potranno quindi iniziare a pianificare la contrattazione integrativa nell'attesa che il decreto passi il valio della Corte dei Conti e che l'Inps fornisca poi le necessarie istruzioni operative. Grazie per averci seguito!